Per me, per te, pazzi. Perché ti sei vestito? Perché potresti essere sul punto di lasciarmi e non voglio essere in mutande. Sono stato con una puttana a New York. Mi dispiace. Perché me l'hai detto? Perché non posso mentirti. Perché no? Perché ti amo. Va bene? Va bene che? Davvero? Stai per lasciarmi? Per questa cosa? No. Perché? Dan. Cupido. Il nostro zimbello. Io lo amo. Ora stai con lui? Da quanto? Dalla mia inaugurazione l'anno scorso. Lo so, sono disgustosa. sei formidabile. Sei formidabile. Sei abilissima. Perché mi hai sposato? Perché avevo smesso di vederlo. Io volevo che funzionasse con te. Ma hai detto che volevi dei figli da me. era vero. Era vero. E ora li vuoi con lui? Sì. Non lo so. Non lo so. Io e te siamo felici. Vai a vivere da lui? Tu puoi stare qua se vuoi. Faffanculo le tue briciole. Me ne fotto. Tu mi hai preso in giro dall'inizio. Tu hai lasciato che mi impiccassi per il tuo divertimento. Dio. Dio. Perché non mi hai detto subito? Perché avevo paura, Larry. Perché sei una viziata. Perché sei una vigliacca. E perché sei un pezzo di merda. Ti sei vestita perché pensavi che t'avrei picchiato. Per chi mi hai preso? È successo altre volte. Non con me. Come ti scopa? Non fare così. È bravo? Sì. Meglio di me? Diverso. Che vuol dire? Più tenero. Che cazzo vuol dire? Lo sai quello che voglio dire. Che io ti tratto da puttana? A volte sì. Chissà perché. Larry mi dispiace che... Vaffanculo! Non mi dire la cazzata! Che io sono migliore di te! Non me lo dire. Ti sei fatta la doccia. Perché hai fatto sesso con lui. Così non hai il suo odore addosso. Così ti senti ma non è colpa. Come ti senti? In colpa. Mi hai mai amato? L'avete fatto qua? No. Perché no? Tu avresti voluto. Io voglio la verità. Sì l'abbiamo fatto qua. Dove? Lì. Ci abbiamo scopato la prima volta. Hai pensato a me? Quando? Rispondimi. Rispondimi! Stasera! Sei venuta? Non fare così. Quante volte? Sei venuta? Sì sono venuta. Quante volte? Due volte. Come? Prima mi ha leccata e poi mi ha scopata. Mi ha scopato. In quale posizione? Io stavo sopra e poi mi ha preso da dietro ok? E lì sei venuta la seconda volta. Perché cazzo il sesso è così importante per te? Perché sono un cavernicolo. Ti toccava mentre ti scopava? Sì. Ti masturbi per lui? Qualche volta. E lui per te? Facciamo tutto quello che fanno le persone che fanno sesso ok? Ti piace succhiaglielo? Sì. Ti piace il suo cazzo? Io lo adoro. Ti viene in faccia? Sì. E che sapore ha? Lo stesso che tu però più dolce. Grazie. Grazie per la tua sincerità. Ora vaffanculo e muori! Sei una fottuta bagascia!